Villa Medicea della Petraia, patrimonio UNESCO. Architetti, Bernardo Bontalenti, Raffaello Pagni, Niccolò Pericoli, detto il Tribolo. Committenza, Ferdinando I de' Medici, data di costruzione dal 1587, il nucleo più antico risale al XIV secolo. Ubicazione, Castello, Firenze. La Villa della Petraia si erge sulla collina di Castello, ai piedi del Monte Morello, a circa 5 chilometri da Firenze. Ha una pianta di forma rettangolare che si sviluppa su due piani intorno ad una torre di guardia alta 33 metri di origine medievale. La facciata principale è rivolta a sud del giardino all'italiana e sulla città di Firenze, di cui si può ammirare una bellissima vista. Al centro della facciata, al pieno terra, si apre l'ingresso principale. Ai lati di questo si trovano otto finestre rettangolari, quattro a destra e quattro a sinistra, che si ripetono anche al primo piano. A nord dell'edificio, invece, si estende per numerosi ettari il parco romantico realizzato nell'Ottocento. Oggi la villa si trova in un'area densamente abitata, vicino all'ospedale di Careggi, ma nel Cinquecento era più isolata ed incarnava la tipica residenza di campagna, così come era stata teorizzata dal Leon Battista Alberti. Ovvero un luogo facilmente raggiungibile dalla città, ma non troppo vicino a centri abitati, per consentire il riposo e l'ozio intellettuale. L'architettura militare in pietra, costruita nel XIV secolo, era di proprietà dei Brunelleschi e aveva prevalentemente finalità difensive. Nel corso dei secoli passò nelle mani di varie famiglie fiorentine. Nel 1544 Cosimo I de' Medici l'acquisterà per donarla al figlio Ferdinando, che alla fine del secolo avvierà importanti lavori di ristrutturazione. Nelle notizie storiche dei palazzi e ville appartenenti alla corona toscana del 1815, lo storico Giovanni Domenico Anguillesi dice, liberale e magnifico nelle sue idee, pensò tosto di ridurlo in più comoda e bella forma, valendosi a tale oggetto dell'ingegno nobilissimo del buon talenti. Nonostante questa testimonianza non esistono documenti che confermino la presenza di Bernardo Buontalenti sul cantiere. Chiunque sia stato l'autore dei rifacimenti, il palagio medievale fu trasformato in una rinascimentale villa principesca, circondato da un magnifico giardino all'italiana, disegnato dal tribolo. La villa divenne così una delle residenze estive preferite da Ferdinando e dalla consorte Cristina di Lorena. Alla loro morte fu ereditata dal figlio cadetto, don Lorenzo de' Medici. Nel 700, all'inizio del periodo lorenese, la costruzione fu poco frequentata e nel 1799 tutti gli arredi furono messi in vendita. Solo nel 1829 Leopoldo II di Lorena si interessò di nuovo al complesso e chiamò il giardiniere boemo Joseph Frisch a disegnare il parco romantico all'inglese sul retro della villa. Allo stesso periodo risale anche il grande viale carrozzabile che unisce la petraia alla diacente villa di Castello. Nel 1865, con il trasferimento della capitale del neonato regno italiano a Firenze, Vittorio Emanuele II scelse la petraia come residenza per sé e per la moglie morganatica Rosa Vercellana, detta la bella Rosina. Il re fece rinnovare mobilio e tappezzeria al gusto del tempo e introdusse vari ammodernamenti. Anche il giardino fu trasformato, risistemando il cosiddetto piano della figurina e costruendo il belvedere sul piano di parterre. Nel 1871 i Savoia si trasferirono a Roma e la villa rimase deserta, se non per qualche fugace sosta della corte di passaggio. Nel 1919, Vittorio Emanuele III donò ufficialmente parte del patrimonio della corona allo Stato italiano, inclusa la petraia, che nel 1984 divenne museo nazionale. Il livello inferiore, o piano di parterre, è composto da un complesso di aiuole in leggera discesa, dall'elaborato disegno geometrico, che rappresentano un bel esempio di giardino di fiori ottocentesco. Un grande viale di platani chiude la parte sud, mentre al centro una fontana sottolinea l'asse di simmetria sul quale si imposta il giardino, attorno al quale gravitavano tutte le altre parti, chiamato del vivaio, perché era, ed è ancora oggi, dominato al centro da una grande vasca rettangolare, funzionale alla raccolta dell'acqua per l'irrigazione e l'allevamento dei pesci. Continuando a salire, si raggiunge il piano superiore dove sorge la villa. Questa parte è detta di figurina, per la presenza della fontana Venere Fiorenza di Giambologna, qui trasferita dal giardino della villa di Castello nel 1788. È alta quasi sette metri, così chiamata per la presenza di un pianoforte Armonium costruito a Napoli nel 1868 da Achille Fummo. L'armonio è un tipo di organo a serbatoio d'aria, costituito da una o più tastiere e da due pedali per azionare i mantici. Questo particolare strumento in mogano ha un piano a coda e una doppia tastiera, quella superiore del pianoforte e quella inferiore dell'Armonium. Continuando sul percorso indicato dal tappeto, arriviamo allo studio del Re. È un piccolo ambiente caratterizzato da una tappezzeria a color cremisi su fondo oro e un mobilio stile impero tipico del primo ottocento. Dalla parte opposta alla scrivania si apre una finestra che si affaccia sulla cappella nuova, così chiamata per distinguerla da quella più antica situata al primo piano. Era consuetudine trovare una cappella dedicata al culto al pianoterra vicino all'ingresso, per consentire ai membri della famiglia di soffermarsi a ringraziare e chiedere serenità per la propria dimora, ma anche un luogo dove accogliere amici e forestieri in segno di pace. Le scale a destra della cappella conducono agli appartamenti reali al primo piano.